Ho preparato, mi è venuto ieri, ecco nel trasloco, è venuto fuori con il tuo buscoletto e mi sono dimenticato. Si vede che è stato un inverno. Il trasloco si vede che è stato un inverno. E vabbè, nulla vieta che il mercoledì prossimo facciamo un mercoledì prossimo. Perché allora, non la parte festa, io non la chiamo festa, la chiamo ormata e quindi giornata e donata. A scuola noi abbiamo un impegno abbastanza importante per questi avvenimenti, ma avvenimenti intesi proprio, quindi stiamo portando avanti già con i ragazzi, tutta una cosa sulla carità di genere, sulle varie opportunità, su tutta questa cosa, e abbiamo un evento della biblioteca, quindi avremo letture a scuola, e abbiamo un evento insomma proprio organizzato per quella giornata. Io pensavo, la volta scorsa pensavo fosse oggi, chissà perché, già ero otto marco, e va bene, però stava volando, eh. Eh, la voglia. Descendita Timpero, ma è una cosa fatta da me personalmente, non la trova. Il solito non c'è che il Napoli è un parallelo, il parallelo proprio del, cioè Napoli Sotterranea, chi la conosce, no? Voglio dire, chi è stato a Napoli Sotterranea. Eh, ha questa idea. No, ci siamo stati. Eh, come no? C'è anche un... Io, per la verità, per la verità, ho anche assistito a una pista teatrale sotto Napoli Sotterranea, ambientata, ovviamente, le robbi motivi lì, perché simulava un rifugio antiaereo durante questa, questo, insomma, questa rappresentazione teatrale. Io, a Piazza Vittorio. Eh? Più o meno a Piazza Vittorio. Eh, no, io sono scesa dalla, proprio da, da via... Ah, edecumano. Da Edecumano, soprattutto da quella, da quella... Perché nella... C'era, c'era questo parallelo tra teatro e visita a Napoli Sotterranea, infatti con un unico costo del biglietto ci hanno fatto anche visitare. Io sono interessato comunque a sapere di più, eh? Sono parecchie Napoli Sotterranea, sarecchie ingressi. Sì, ma anche il tunnel Borbonico. Sì, sì, ma quello è il postumo, però. Il mio figlio, per esempio, ha girato lì anche una... qualche volta se capita, lo vediamo, no? Il Borbonico, loro hanno girato sempre una, diciamo, un porto, un piccolo porto, che mi piaceva la fattura, eh? E... che si chiama proprio Petro Sotterranea, e quindi parla di Napoli, di Napoli, di Napoli e di Napoli ed è qualcosa, forse, che è indicato anche per il percorso, appunto, che stiamo facendo, lo possiamo... E' possibile collegarci a internet? Due giorni e il web è morto. Perché possiamo vedere che sta caricato su YouTube, quindi... Vabbè, non è che non vieni più, quindi ci auguriamo. No, no, no. Eh, allora, accendo di questi giorni. Parliamo del canto 26 dell'inverno, che viene ricordato più come il canto di Ulisse, perché in questo canto incontriamo, Dante incontra Ulisse. E ci troviamo nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio, quindi siamo parlato, quindi c'è l'ottava bolgia dell'ottavo cerchio. Chi è ospitato, diciamo così, in questo cerchio? I consiglieri di frode, cioè i consiglieri fraudolenti, ovvero persone che hanno dato consigli, cioè davano consigli, ma con uno scopo ovviamente di ingannare. E Ulisse incarna il consigliere fraudolento, ovvero eccellenza, no? Non solo noi lo ricordiamo per la vicenda dell'Odissea e il cavallo di Troia, ma anche perché... Il cavallo di Troia è l'Odissea e l'Odissea. No, 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 è presto, è l'Odissea. Viene raccontata l'Odissea, però è successo nell'Odissea. Ok. No, l'Odissea. No, l'Odissea. No, l'Odissea. Viene raccontata l'Odissea e l'Odissea. Viene raccontata l'Odissea e l'Odissea. Viene raccontata l'Odissea e l'Odissea. Non facciamo un po' di qualcosa, un po' siamo tutti diversi. Allora, che cosa è colpevole Ulissea, eroe greco, Acheo per eccellenza, di aver ovviamente appunto ordito questo inganno del cavallo di Troia ma anche di aver trascinato i suoi compagni alla morte perché noi poi adesso vedremo noi immaginiamo quando ecco l'Eneide termina termina con questo viaggio avventuroso ha detto fine no? ma allora ti sei a questo ti sei confondendo sempre ti sei involontariamente però ok non citerò le opere citerò i fatti allora cioè come termina con il ritorno di Ulisse a Itaca il ricongiungimento insomma eccetera eccetera e invece poi alla fine non è questa la vera storia e Ulisse non è morto cioè voglio dire da anziano a Itaca tranquillamente ma ha convinto i suoi la sua compagnia ad andare oltre le colonne d'Ercole che erano considerate alla fine del mondo oltre lei non c'era nulla vivere come il blu a perseguire le virtù ecco e canoscenza e canoscenza volevo solo un appunto i consiglieri fraudolenti abbiamo detto chi sono per capire ancora meglio sono coloro che mentono per trarne un profitto però però qui ci troviamo tra tutti i consiglieri fraudolenti ci sono pure i barattieri sono tutti i crimini uniti perché fatti con l'ingegno quindi non sono infatti non è un'inconfianza come la l'oscuria oppure la velocità e infatti anche la stessa tra virgolette la stessa punizione pure in qui come un po' adesso lo vediamo eh fraudolenti giusto per spiegarlo in modo con termini attuali ah è lo stesso dei termini attuali lui era un ambasciatore Ulisseo e quindi portava anche notizie agli altri il coso per cui paga di più è il cavallo di Troia ma anche poi dopo l'invocazione che vediamo è fraudolenti che significa fraude? poi c'è una differenza pure oggi nel codice penale tra evasione fiscale per esempio e fraude fiscale la fraude è per avere un embrugliare però è tutto il tuo embrugliare l'evasione che fai l'evasione non pagare e se è un po' come un ignavo dici non pago non me ne imposto la fraude invece è ancora più grave è ancora più grave perché io dichiaro magari cose che non ho per trarre un vantaggio per guadagnarci qualcosa studi un sistema un sistema per imbrogliare invece l'evasione è quasi incontinenti non vado proprio a tasse per esempio proseguiamo con l'illustre allora in realtà perché lui sottolineava il peccato fatto con l'ingegno Dante lo vive in maniera molto sentita questo peccato cioè quasi si sente coinvolto in questa cosa perché lui pensa di essere destinatario anche dico tanto ingegno nell'avere tutto questo ingegno che però secondo lui non può essere esercitato l'ingegno l'intelligenza al di fuori della morale cristiana ecco perché poi lo identifica come peccatore anche i consiglieri frauvolentici persone che utilizzano l'ingegno al di fuori di quelle che sono appunto peccando quindi al di fuori della morale della morale cristiana Dante vedeva come contenitore privilegiato dell'ingegno perché in base a questo faccio questo intervento velocissimo mi dispiace che gli altri non abbiano portato qualcuno tramite non lo so se tramite internet per la struttura dell'ingegno voglio far vedere una cosa interessantissima se possiamo proiettare no se tu la prendi dalla cosa che mi dura talmente poco che non voglio togliere dai battenti io pensavo che l'avessero portato anche loro allora queste chi c'era lezione l'altra volta se lo ricorda Dante ci ha dato nella sua divina commedia tantissimi regali anche notazioni musicali di alcuni versi e noi non lo sappiamo non li conosciamo tutti questa è una che ho scoperto io e che riguarda la cabala è in discussione che Dante infatti chiaramente Dante 10 riprende molto dalla mitologia islamica dalla sapienza islamica soprattutto la cabala infatti Maometto dove lo avreste messo voi tra gli eretici tra gli epicurei no perché è un eretico oppure tra lui invece lo mette tra i seminatori di discordia perché ma secondo una leggende che all'epoca che all'epoca lui voleva essere eletto papa maometto non ci riuscì è una leggenda medievale e fondò una nuova religione Dante ci credeva io anche ci credo ovviamente perché nel feicento è impossibile però questa è un è spentita sangue perché abitavo altrove e pensava ad altri fatti noi ci troviamo qui come diceva benissimo Anna nell'ottava bolgia andiamo al centro dell'inferno l'altra volta tu no? dice un colloquio un colloquio un confronto e tu dice io domandai cosa c'era più sotto nell'inferno e tu il fuoco le fiamme invece no c'è il ghiaccio l'abbiamo visto perché sono lontani dall'amore dal calore dal calore di Dio manco questo non potete contare l'ottava bolgia i consiglieri frautoreni si trovano al centro dell'inferno perché ci sono le vittime no non le vittime i colpevoli tutti e tre i colpevoli consiglieri frautoreni contando nove che nove non è un simbolo positivo sempre nove è positivo perché i nove cerchi del paradiso in quel caso le nove schiere angeliche sono un simbolo positivo qua il nove non è tre più tre più tre cioè tre volte nella trinità ma è inteso cabalisticamente come sei quindi il numero diciamo più tre cioè l'uomo che scignotta Dio allora contando da qui da qui vede anche uno due tre quattro cinque sei sette gran burrato non già sei otto nove dieci no spero devo raccontarlo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici dici sette ok vabbè no 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 3 4 5 6 ah no 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 ecco uno due tre quattro cinque e nove questo è lo per sei sette otto e nove sono nove a partire dal limbo no dall'antinferno scendendo giù sono altri nove 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 e diciotto due volte nove due volte nove non solo e otto e uno quindi avete capito quante volte ricorre il nove e non solo loro scimiotto qua non si vede perché alcuni mettono si mettono ne esatto scimiotto anche la trinità perché uno due e tre fanno la croce a contare tornando tornando a questo avrai rappello tornando al nostro canto abbiamo in realtà Ulisse il canto si apre innanzitutto con un'invettiva di Dante alla città di Firenze però il vero protagonista appunto di questo canto come ho detto è Ulisse che in realtà come identifica cioè come viene visto da Dante questo personaggio come quell'uomo che non solo è l'astuto ingannatore ma la persona che dedica quasi tutta la sua vita alla conoscenza no? a sapere a sapere e quindi potremmo anche dire che colpa qual è la colpa no? di questa persona diciamo se Dante lo vede come colui che è l'uomo intento a diffondere la conoscenza a ricercare la conoscenza in realtà lui mette l'accento proprio sulla questione inganno chiaro? l'inganno quindi l'intelligenza utilizzata come diceva Giovanni prima ha fini per altri scopri ad altri fini per ricavarne un vantaggio per ricavarne qualcosa però ovviamente Dante non descrive solo questa questione dell'inganno ma descrive Ulisse come la persona che trova la morte proprio quando sta cercando di oltrepassare no? i limiti del sapere umano cioè quindi queste colonne d'Ercole ecco d'Ercole che si trovano per qualcuno erano identificate a Gibilterra insomma molto probabilmente si ipotizza che fossero lì e quindi proprio nel momento in cui questo sta trovando sta oltrepassando quelli che sono i limiti del sapere trova la morte interessante e paga in realtà per che cosa? per la sua audacia no? seguir virtù teccano scienze che cosa vuol dire? ovviamente secondo Dante viene vissuto al di fuori di quella che abbiamo detto la morale cattolica la morale cristiana e quindi viene vista come qualcosa di folle come qualcosa di ecco l'audacia il folle volo no? qualche autore lo ha definito e ovviamente però che cosa succede? che Dante vede la morte di Ulisse come la morte di colui che ha un passo dalla redenzione ha un passo da quella che è per esempio il suo purgatorio trova la morte quindi viene io volevo aggiungere un'altra che non solo proprio perché vede il purgatorio però che cosa però che cosa cioè perché poi sottolinea questo perché secondo Dante la diciamo questo percorso che Ulisse voleva intraprendere si concretizza e si può realizzare solo rimanendo all'interno di quella che è l'obbedienza divina l'obbedienza a Dio quindi cosa che Ulisse ancora di più Dante lo sottolinea per due motivi uno che l'obbedienza civile l'obbedienza civile troppo programmi elettorali che l'obbedienza che l'obbedienza a Dio è la base di ogni canoscenza poi in un secondo luogo in un secondo luogo noi vediamo che lui passa come dici tu lo stretto i cipiteri ed è bellissimo perché è proprio una carta nautica cioè gli spiega dove va ti dice dove va gira a sinistra cioè non è che va verso l'America anche perché all'epoca pensavano che la terra fosse a forma di tabernacolo così quindi si scendeva giù e poi c'era la montagna del purgatorio quindi va e scende giù quindi verso il purgatorio e si inna pisa si inna pisa quando salta cioè una volta a descriverlo vabbè vediamo nel nel leggere il perché viene descritto anche da Dante questo tre volte e non solo nelle Canarie cioè non solo ma quello che descrive Dante è talmente ha lasciato spigottiti alcune studiosi perché effettivamente là ci sono le correnti del golfo effettivamente affondano un sacco di nani quindi ho Dante l'ha sentito nei porti comunque comunque è una fase ci sono delle ipotesi come Dante abbia si è venuto a conoscenza di queste cose però sono reali perché c'è lo stretto di Gipiterra ok è l'ultimissima l'ultimissima che voglio dire che Dante che Dante ah e poi che Dante ancora è stato avvisato due volte e una volta è stato perdonato e la seconda no è stato avvisato due volte si è messo contro la divinità la prima e questa sta nell'odissea proprio quando ha detto io sono riuscito da solo a sconfiggere i troiani allora a Ulisse ti stai riferendo a Ulisse ok ho distrutto Dante ha pulito confondo con te abbiamo lo stesso vizio se no allora io sono riuscito da solo a conquistare Troia allora si presenta il mostro di Poseidone si presenta la voce di Poseidone e dice no guarda io ti ho mandato loro volevano aprire il cavallo di Troia che le neite ho fatto proprio così racconta del cavallo di Troia tra parete se il cavallo di Troia non è un cavallo gli studi recendi hanno saputo che è una nave una sorta di nave quelle che regalavano per quando i Troiani la volevano aprire cavallo è sempre cavallo noi possiamo parlare è un racconto è un racconto e un racconto come cosa non ti si illude no non ti si illude no dico lui che aveva detto sono stato solo io che non Poseidone gli ricordo guarda che se non ti immondavo il mostro contro Laconte che era l'indovinto che gli diceva non portare cassa altra Laconte allora Nettuno mandò Laconte perché ormai era deciso una idea che dovevano vincere gli Akei e Ulisse disse lo stesso no sono stato io questo sono stato io gli è costato altri dieci anni di navigazione non solo Dante Dante questo proprio dire Dante è un'altra cosa che voglio dire qui non è Dante non ha mai letto nell'Iliade e questo lo doveva ah ce l'aveva detto vai tu gli anticipi non conosceva il greco per cui le ipotesi sulla morte sulla morte di allora che cosa accade spieghiamo in realtà che cosa accade in questo in questo capo Dante e Piergile arrivano in questa ottava Bolgia e riprendono questo il loro viaggio e si imbattono in questo spettacolo in cui cioè che incute ancora nel poeta una terribile sofferenza l'ottava Bolgia ha un fondo buio dove ardono tante fiammelle e ovviamente Dante si chiede che cosa sono queste fiammelle sono appunto Virgilio gli spiega che sono le anime dei consiglieri di Freud i consiglieri fraudolenti imprigionati in queste lingue di fuoco che ovviamente noi abbiamo detto che molte le punizioni sono infelite per la legge del contrapasso quindi le lingue di fuoco perché loro i consiglieri ovviamente hanno utilizzato nel per il loro peccato insomma per mancarsi questo peccato proprio la lingua quindi le lingue di fuoco che vanno insomma ad essere il contrapasso per questo peccato ovviamente la incontrano la una due fiammelle l'una vicino all'altro che Dante definisce connuta perché ha queste due lingue dove all'interno del quale si trovano le anime di Ulisse e di Diomede che sono insomma per Dante i più importanti rappresentanti di questa di questo di questo peccato vedremo come Ulisse convince i suoi compagni ad oltrepassare queste lo stretto di Gibiliterra quindi le colonne d'Ercole e ovviamente che cosa che qual è la differenza del peccato in sé che il peccato di cui si è macchiato Ulisse non lo rende simile alla bestia ma piuttosto a differenza per esempio degli altri peccati perché perché allora lo pone lì perché secondo Dante Ulisse non ha utilizzato il proprio ingegno a sostegno della fede cristiana cioè per aiutare la fede cristiana ma dell'inganno quindi in realtà ciò che è punito è maggiormente proprio questo aspetto dell'inganno pur riconoscendo questo ingegno così mirabile ovviamente Dante rispetto a questi peccatori mostra una sorta di riverenza perché riconosce anche questa superiorità dell'ingegno soprattutto nei confronti di Ulisse perché secondo Dante questo è un peccato di intelligenza un peccato tra virgolette condotto con l'aiuto appunto della ragione della mente non fa sì non accomuna il peccatore alla vecchia a colui che perde no anche il senno l'intelletto per peccare come diceva pure prima Giovanni se noi pensiamo ai misturiosi se noi pensiamo ai racconti se noi pensiamo cioè questi peccatori sono visti come invece no questo peccato questi peccatori c'è una sorta di rispetto di Dante nei confronti di questi peccatori ovviamente si trova in questo canto noi troviamo un'atmosfera molto diversa rispetto a tutti gli altri canti dell'inferno perché non ci sono appunto proprio in virtù della peculiarità di questi peccatori non ci sono degli aspetti o non ci sono degli elementi caratterizzanti da disprezzo da ripugnanza no anzi piuttosto una riverenza nei confronti di questi di questi peccatori e poi ovviamente noi la figura di Ulisse come è arrivata insomma è arrivata a noi attraverso i poeti i poemi di Omero Eneide l'Odissea e ovviamente come vi dicevo l'Odissea si chiude appunto con il ritorno di Ulisse ad Itaca tra le braccia della paziente venerove ed è una ovviamente un poema che si chiude con un lieto fine tuttavia però che cosa in realtà perché allora Dante descrive in questo canto questo ulteriore viaggio perché se noi dal poema Omerico ci ritroviamo un Ulisse che torna a casa e vive felice e contento ricongiunto con la moglie e con il figlio poi qui invece poi abbiamo di contro questo aspetto di questo viaggio perché innanzitutto che cosa da dove lui prende questi elementi per poter descrivere voi la morte di Ulisse proprio dalla lettura anche dell'odissea stessa no cioè voglio dire c'è l'elemento che viene preso e quando Ulisse discende negli inferi e Tiresia di preannuncia che avrebbe fatto il nuovo viaggio quindi questo potrebbe essere un elemento diciamo di collegamento con questo viaggio oppure per esempio ovviamente Dante non conosceva il greco quindi non ha letto come diceva Giovanni l'Odissea però ha ripreso ha letto le opere di Ovidio latino e quindi da qui sicuramente perché da qui da Circe lui torna a casa e racconta poi di questa cioè Ovidio a Lars Amandi cosa racconta la storia di Calipso questa ninfa che presagisce la sfortuna cioè che preannuncia la sfortuna a Ulisse possiamo ritrovare qualche elemento di questo viaggio anche in Seneca e ovviamente si presuppone che Dante abbia preso elementi da queste letture per poi descrivere la morte di Ulisse nel 26esimo canto che ci apprestiamo a legge allora io ho cercato di fare un parallelo tra il testo e la paratrasi così è stata anche più semplice per voi poterlo fare come vi dicevo il canto si apre con questa imbettiva a Firenze che è la città natale per la quale in realtà Dante ha incontrato durante questo suo viaggio all'inferno dei fiorentini che si erano distinti che erano stati ovviamente da lui posti in l'inferno insomma godi fiorenta poi che se si grande che per mare e per terra battrai per l'inferno tuo nome si spande tra le ladroni trovai cinque potali tuoi cittadini onde mi ven vergogna e tu in grande orranza non ne sali allora ovviamente qui è riferimento a queste persone che lui ha incontrato e che ovviamente secondo Dante minano la fama che Firenze stava assumendo ha assunto in quel periodo perché di certo nome si spande per l'inferno cioè ricordato anche qui perché tra i dannati lui ritrova questi cinque noti cotali li chiama cittadini dei quali Dante si vergogna perché portano disonore alla città quindi questa iniettiva verso questa città la sua città d'origine ma se presso al mattin del versi sogna tu sentirai di qua da piccio il tempo di quel prato non c'altri tagogna e se già fosse non saria per tempo così fossei da che pur esser dei che più mi graverà con più ma tempo allora dice ma se è vero che poi il sogno si sogna maggiormente quando sta per sorgere il giorno cioè che la verità si sogna in questo momento del mattino tu tra poco sperimenterai quello che prato e altre città desiderano e se questa punizione fosse già avvenuta sarebbe stato comunque non sarebbe troppo presto dice e magari accadesse questa cosa perché più se dovesse accadere più più sarò vecchio più mi torrò di questa vergogna più sarà grave per me questa vergogna noi ci partimmo e su per le scalee che ne avevano fatto i borni a scendere pria rimontò il duca mio e trasse me e proseguendo la solinga via tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio lo pie senza la mano non si spedia dice quindi ci allontanammo e salimmo su quelle scale che prima c'è i borni guardate questo riferimento cioè che aveva fatto in pallidire no prima quando scendevamo la guida risalì e mi tirò dietro e proseguendo per questa strada solitaria tra le rocce e i massi sporgenti dalla parete il piede non riusciva a salire se non appoggiandosi con la mano alla parete allora mi dolci e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vivi e più longegno a freno che io non soglio perché non corra che virtù non guidi sì che se stella buona o miglior cosa mi ha dato il ben che io stesso non mi invisi allora provai tanto dolore ed ora mi ridoglio cioè ne 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 provo ancora quando ricordo ciò che ho visto ciò che ho visto e freno il mio intelletto affinché non sia insomma non vada oltre non vada non cammini da solo senza la virtù che ha guidato quel mio cammino cosicché se l'influsso benefico le stelle se stella buona l'influsso benefico o qualcosa ancora di superiore mi hanno dato questo la possibilità di salvarmi io non me ne privi io stesso ovvero non pensi alla morte a infliggermi la morte quanto il villan calpoggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi ti è meno ascosa come la mosca cede alla zanzara vede lucciole giù per la vallea forse colà dove vendemmia e ara di tante fiamme tutta tutta risplendea lo stava a bolgia siccome io nascorsi tosto che fui là del fondo parea allora fa una metafora fa un parallelo tra il contadino che riposa sulla collina nel tempo che il sole sta tramontando no bellissima questa immagine colui che il mondo schiara la faccia sua a noi nascosa cioè quindi quando il sole che rischiava la terra si nasconde cioè nasconde la sua faccia a noi come la mosca cede alla zanzara cioè quindi sull'imbrunire il crepuscolo e questo contadino vede queste lucciole giù nella valle e dove forse nel posto dove lui è solito arare vendemmiare così l'ottava a bolgia nel fondo risplendea di tutte queste cioè di tutte queste fiammelle così che io mi accorsi addirittura appena riuscii a vederlo nel fondo e qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro dei lia al di partire quando i cavalli al cielo erti le orsi che non potea si con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola siccome nuvoletta in su salire tal si muove ciascuna per la gona del fosso che nessuna mostra il furto e ogni fiamma un peccatore in vola allora come e come colui che si vengiò significa si vendicò trovo vendetta per mezzo per mezzo degli orsi e come colui che quindi appunto si vendicò e vide il carro del profeta elia che partiva da terra e quando i cavalli cominciarono a ergersi verso il cielo così che non lo si poteva più seguire con gli occhi e salire così in alto no? come una nuvoletta così all'interno di questa gola profonda insomma che lo stava a bolgia perché si quindi in realtà riparagona queste fiamme che salivano verso l'alto però nessuno insomma dice nessuno nasconde poiché nessuno mostra l'anima che nasconde cioè queste fiammelle che all'interno delle quali non si riesce a scorgere l'anima che è avvolta da esse io stava sopra il ponte a vedere il surto sì che se io non avessi un ronchion preso caduto sarei giù senza essere urto questo ovviamente è una una sua condizione di precarietà perché era ritto su questo ponte a guardare giù e se non si fosse aggrappato a questo ronchion quindi una sporgenza della roccia sarebbe precipitato dice senza essere urto cioè senza essere neanche spinto e il duva che mi vide tanto atteso disse dentro dai fuochi sono gli spiriti che tu si fascia di quel che lì è inceso maestro mio risposio per udirti sono io più certo ma già mi era avviso che fosse così e già volevo dirti piccola dalla qua non fai di certo allora il duca quindi virgilio che mi vide così atteso così attento intento a guardare mi spiegò che dentro che fuochi ha no no te lo stavo dicendo qua si 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 hai ragione infatti allora già voleva dirti chi è nel fuoco che si viene diviso di sopra che far sorge della pira dove è Teocle col fratello uniso allora cioè la guida quindi che mi vide così tanto a guardare disse le anime ovviamente che si trova all'interno di questi fuochi ognuna è avvolta ed è arsa da quella fiamma e lui e io risposi sono lo ascolto da te sono certo perché me lo hai detto tu ma io già avevo intenzione di chiederti chi fossero chi è in quella fiammella ecco quella che vi dicevo che lui identifica come fiamma cornuta cioè voglio dire divisa in due in due parti e quella che sembra sorgere da quella pira cioè quindi da quella pira funeraria lo sapete no prima c'era l'abitudine di insomma di bruciare le salme dove Eteocle fu deposto col fratello rispose a me là dentro si martira Ulisse e Diomelo e così insieme alla vendetta vanno come all'ira e dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del cavallo che fe la porta onde uscì dei romani il gentilseme quindi mi rispose là dentro vanno insieme nel castigo così come nella colpa che hanno commesso cioè quindi in ugual modo Ulisse e Diomede e dentro la loro fiamma che cosa perché sono lì perché espiano il peccato di aver interpretato l'inganno appunto del cavallo di Troia da cui poi venne fuori il progenitore di Romano questo giusto per un appunto è il motivo maggiore per cui sia Dante per poco o Virgilio per Dante lo mette perché Dante vorrebbe che si ripristinasse l'impero romano era imperialista no pur non essendo Chibellino era un periodo fu Chibellino pur essendo quel fu era comunque un imperialista è una delle maggiori colpe di Ulisse è proprio quella di aver attaccato Troia per consentito l'espugnazione di Troia che è la progemetrice di Roma dell'impero romano in Penea con sbacco sulle coste dell'Azio allora piangevisi entro l'arte perché morta dei damia ancora si vuol d'Achille e del palladio pena vi si porta e dentro ancora c'è quindi Ulisse che ha perpetrato quest'inganno e Diomene che piange ancora per Achille e sconta la pena per il il furto della statua di Pallade che era insomma anche legata appunto al mito anche del insomma dei greci ok se possono dentro da quelle faville parlare di Sio maestro maestro assai del priego e ripriego che il priego vaglia mille che non mi facce facci dell'attendere niego finché la fiamma cornuta qua vegna vedi che nel di Sio per lei mi piego ed egli a me la tua preghiera è degna di molta loda ed io però l'accetto ma fa che la tua lingua si sostegna lascia parlare a me che io concetto ciò che tu vuoi che sarebbero schivi perché fuor greci forse detto detto allora ovviamente qui Dante prega Virgilio di far avvicinare dice una volta che appena si avvicinano vorrei parlare ti rinnovo la preghiera di parlare con loro e la mia preghiera valga mille affinché non abbia non ci sia un diniego a questo mio desiderio di parlare fino a quando la fiamma vedete cornuta bipartita giunga qua vedi che io desidero addirittura talmente desidero parlare di loro che mi mi piego verso di essa e lui e Virgilio dice la tua preghiera è sicuramente degna di tanta lode e la secondo l'accetto però attenzione lascia parlare me trattieni la tua lingua perché io so ho capito quello che vuoi poiché però sono stati sono greci potrebbero essere schivi non potrebbero rifiutarsi di parlare con te quindi lascia parlare me però questo è l'unico caso e questo demarca ancora quello che abbiamo detto prima sull'impero romano questa distinzione tra grece romano grece o voi che siete due dentro ad un fuoco se io meritai di voi mentre che io vissi se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi non vi muovete ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi quindi virgilio rivolge questa invocazione dice voi due che siete all'interno di questo fuoco se io ho acquistato o verso di voi un piccolo merito no piccolo o grande quando ho scritto di voi quando ho scritto di voi non vi muovete ma uno di voi ci dica dove sperduto in un'avventura no anche appunto vedremo poi perché è proprio Ulisse che parla andò a morire lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella a cui vento a fatica indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse gittò fuori voce di fuori e disse quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno la presso a Gaeta prima che si e nea la nomasse né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amore lo qual dovea Penelope far lieta vince il potero dentro a me l'ardore che io ebbe a divenire del mondo esperto degli vizi umani e del valore ci fermiamo qua perché poi comincia proprio la parte insomma più centrale diciamo più nel senso l'appunto del viaggio allora lo maggior corno della fiamma antica cioè quindi la parte più alta della fiamma cominciò a muoversi e mormorò anche cioè come se fosse affaticato dal vento no come e quasi cominciò a questa fiammella no proprio come se fosse una lingua cominciò a muoversi di qua e di là e venne fuori la voce di Ulisse dicendo che quando lasciai la Circe che mi aveva trattenuto più di un anno presso il luogo che poi Enea chiamò Gaeta non nulla poteva in realtà distogliermi no da questa passione da questo ardore che provavo nei confronti di questa donna né dice la dolcezza di un figlio né la riverenza cioè il pensiero verso il padre vecchio e né tantomeno il debito d'amore che aveva con la moglie Penelope dice quindi io non riuscivo a frenare dentro di me questo ardore e cominciai a diventare esperto del mondo dei suoi vizi e delle sue virtù ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna piccola dalla quale non fui diserta però che cosa fece dice lasciai Circe mentre presi questo non ritorno mai ne ritorno come si intende qui quindi non il vieto fine tra le valette dell'odissea quando c'è la mentalità romana di combattere per poi ritornare in patria sai il contadino pure come in tanti niente è accanto assolutamente però quello dice cominciai a questo nuovo viaggio questo nuovo viaggio in mare aperto con una piccola nave e con una sola nave e con una compagnia con pochi sparuti compagni che quelli che non mi avevano abbandonato no quelli dice la quale dalla quale compagna piccola dalla quale non fu diserto cioè quindi quei pochi fedeli che ancora non mi avevano abbandonato non mi avevano lasciato solo vivi l'un lito e l'altro vivi fin la spagna fin nel morocco l'isola di salvi e l'altro che quel mar intorno bagna io e compagni eravano vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta della mandestra mi lasciai Sibilia dall'altra già mi avea lasciato setta quindi dice ci inoltrammo fino a vedemmo una costa e l'altra per attraversare appunto questo stretto fino al marocco la sardegna e tutte le altre terre che sono bagnate da quel mare io e i miei compagni eravamo tanti e quando giungimmo appunto allo stretto a quella foce a quel barco dove ercole pose i confini del mondo perché l'uomo non andasse oltre a destra mi avevo lasciato Sibilia e dall'altra avevo già lasciato l'altro Ceuta setta che sta appunto o frati disse che per centomiglia perigli siete giunti all'occidente a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che è del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente dice o fratelli no che siete arrivati fin qui attraverso tanti tante peripezie attraverso tanti pericoli non rifiutate alla vigilia cioè in questo poco tempo che ormai ci rimane della nostra vita di conoscere di quindi di andare di vivere l'esperienza di seguire no questo percorso inesplorato questo percorso che non nessuno mai ha toccato e qui considerate la vostra sinenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza dice quindi questa conoscenza come dicevamo Dante che all'inizio lui vede come una quasi una diciamo un'attenuante no della pena di Dante perché l'ingegno l'intelletto fa sì che l'uomo non sia non diventi una bestia no quindi questa immagine fatti non foste a vivere come bruti quindi avete il in realtà potete anche andare oltre no i limiti del sapere che sono identificati con le colonne senza bisogno di niente solo per questo diceva solo con la vostra con la vostra forza lì i miei compagni che io sia avuti con questa razione piccola al cammino che appena poscia le avrei ritenute e volta nostra poppa nel mattino veremi facciamo facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino quindi a sinistra dell'aprica a sinistra lui dice feci così anche aguti no cioè l'indussi nel desiderio così grande di andare oltre no non tanto convincere proprio cioè questo dà l'idea di dire proprio il desiderio cioè io inculcare il desiderio come avesse solleticato e sollicitato le giuste corde per questo modo appunto di conoscenza che aveva che aveva instillato il loro e dice in realtà con queste con queste brevi frasi con questa breve frase la definisce orazione le avevo resi così desiderosi che poi alla fine non sarei stato più capace di trattenerli ormai erano andati no e questo dice allora volgemmo la nostra la poppa della nave verso l'est quindi dove sorge il sole e facemmo ali al folle dei remi facemmo ali al folle vole cioè identificamo cioè in realtà usamo i remi come per per spiccare questo questo volo che era folle che era ovviamente soprattutto verso l'ignoto appunto tutte le stelle sempre ovviamente mantenendo come diceva come diceva Giovanni il lato simile sì anche perché le imbarcazioni all'epoca proprio la navigazione delle imbarcazioni era sempre vicino alla costa sì non è che si distanziassero pure nel Mediterraneo non è che si distanziassero devono avere sempre a vista la costa non c'è girata non c'è niente era obbligato perché senza motori senza tutte le stelle già dell'altro polo vedi alla notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del mar insuolo cinque volte era acceso e tante casso il lume era di sotto dalla luna poi che entrate eravamo nell'alto passo quando non apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna allora la notte in realtà diceva era come se fossero già passati nell'altro emisfero quindi vedevano le stelle dell'alto e questo è importante già nel 1300 loro conoscevano le stelle dell'emisfero australe che sono diverse dalle nostre quindi qua si vede lo studio di l'alto soprattutto gli arabi lui ha avuto molti contatti è partito anche da più lontana lo studio del diastro le gigurat yassiri però l'ha veduto sempre il nostro sotto l'equatore invece sta l'australe quindi vedevamo appunto la notte già mostrava le stelle dell'emisfero australe mentre le nostre erano basse che non tanto che dice non sorgea fuori del mare in suolo cioè non superavano il fondo diciamo la superficie del mare cinque volte si era acceso e altre tante volte casso spento l'emisfero più basso della luna da quando avevamo cioè in realtà erano passate cinque notti noti con cinque giorni e poi erano luna diciamo luna e poi giorni che era da quando insomma avevamo intrapreso questo viaggio al di ventoso quando ci apparve una montagna che non riuscivamo a distinguere tanto era lontana e mi parve così alta da non aver mai visto nessun altro così alta noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nasce e percorse del legno il primo campo tre volte effeggirà con tutte l'acqua alla quarta levare la poppa in suso e la prora era in giù come altrui pianto infin che il mare fu sovranolti in giù dice quindi che cosa successe mentre ci rallegrammo no nel vedere questo questa terra sconosciuta no questa terra inesplorata che stavamo esplorando ma improvvisamente la gioia si trasformò in pianto perché dalla terra sconosciuta venne fuori questo turbine questo vortice insomma tromba d'aria come dobbiamo definirla che colpì la parte anteriore della nave e questo fece girare la nave tre volte tre volte questo dei tre volte fece girare con tutte l'acqua cioè quindi la fece girare tre volte in un unico vortice alla quarta sollevò la poppa in alto e la prora si inabissò in giù fino a vista quando sale come stabilito ovviamente da qualcun altro che potrebbe essere fin quando il mare fu sopra noi d'inchiuse e questa è la nostra un'ultima cosa è ovvio questa parte qui del purgatorio è anche una introspezione che vabbè di tutta la Divina Commedia però in questa parte qui specifica sua che lui si trovava nella selva scura sperduto per accedere al purgatorio e voleva accedervi comunque per la sua condotta umana perché lui si riteneva onesto però si riteneva di aver utilizzato l'ingegno nella tanda invece fa questo viaggio e qui non fa fine Ulisse Ulisse Caput 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 questo è l'ultimo dell'inferno no no io ho pensato un po' un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti